Conciliare tempi di vita e di lavoro è un'impresa non da poco, questo vale per chiunque, eppure c'è chi si trova maggiormente in difficoltà perché dare tempo all'uno significa togliere tempo all'altro, e questo potrebbe essere ben più che rinunciare al proprio tempo libero. È la situazione in cui si trovano oggi diversi genitori di disabili gravi che sono insegnanti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Lo scorso 28 febbraio è stato infatti presentato alla Camera dei Deputati il decreto legislativo per modificare e integrare il testo unico del pubblico in biego, testo che disciplina, tra le altre cose, anche le norme che regolano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Ed è proprio da queste norme che non si sentono tutelati o non presi in considerazione molti genitori di malati gravi, non autosufficienti al 100%. Si tratta di lavoratori che si ritrovano talvolta assegnati a sedi molto distanti dalla propria abitazione e dei propri figli perché i posti disponibili vengono occupati da chi ne ha diritto in quanto disabile al 67%, percentuale raggiungibile anche con patologie ben più lievi di quelle dei figli in questione. Questi genitori, soggetti a trasferimenti, vengono messi dunque davanti a una dolorosa scelta, stare vicino ai propri figli o andare a lavorare lasciandoli senza la necessaria assistenza. Un argomento molto caldo a livello nazionale e del quale se n'è parlato anche a Favara. È proprio da questa città che parte una petizione popolare, in un video nel quale sono protagoniste tre docenti favaresi, mamme di tre bambini affetti da disabilità. Il corto è stato pubblicato ieri su Youtube con il titolo La toccante lettera di tre mamme docenti, realizzato da Peppe Bennica e deato da Melissa Bennica. Sette minuti che ti prendono, dove si parla dell'amore di un genitore verso il proprio piccolo, delle leggi definite ingiuste e della lotta per avere riconosciuti i propri diritti. Lotta che si sta portando avanti con una petizione online, chiamata Non possiamo lasciarli soli, con la quale si stanno raccogliendo firme per chiedere di modificare il testo unico, affinché si riconosca come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, per il personale di ruolo dipendente delle pubbliche amministrazioni con figli disabili in situazioni di gravità. Da Favara è partita questa petizione, e Favara può vantare di avere due deputati alla Camera che si potrebbero fare carico delle stanze che provengono dal proprio territorio.